Come sono le carte di post e pay? Potranno solo se le famiglie vorranno attivare anche il chip e quindi ricaricare una carta che è gratuita come strumento economico, un borsellino che la famiglia potrà decidere di far utilizzare ai propri ragazzi. Alcuni siti un po' pericolosi che circolano c'è un blocco, 3 milioni di carte sono attualmente attive, quindi utilizzate dai ragazzi. Se i ragazzi sono svegli, vogliono imparare, capiscono bene che hanno in mano uno strumento, uno strumento in più vantaggioso che devono utilizzare con la testa, ma uno strumento che li mette in contatto col mondo del lavoro, col mondo della realtà, con strumenti finanziari ed è un vantaggio per loro. Grazie a tutti!